prendono il via i test sierologici rapidi nelle farmacie della regione due anni dalla tragedia di corinaldo il progetto dell'associazione cogeo arriva nelle marche il nuovo numero unico di emergenza europeo sport finisce 0 a 0 il derby tra vis e pano perde la carpegna prosciutto basket una buona serata a tutti i telespettatori di rossini tv il canale 633 del digitale terrestre bentornati a un nuovo appuntamento con l'informazione del nostro telegiornale rossini news subito in apertura la cronaca con un incidente stradale che ha avuto luogo questa mattina fano in località chiaruccia protagonista del sinistro un'automobile condotta da un trentenne del posto che si è schiantata contro un camion della segnaletica stradale parcheggiato a bordo strada ad avere la peggio è stato un operaio 49enne che si trovava fuori dal mezzo l'uomo che non sembrerebbe essere in pericolo di vita è stato trasportato in elia ambulanza all'ospedale di ancona per le ferite riportate e parliamo ancora di cronaca perché continua l'attività della squadra mobile della questura di pesaro e urbino volta a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti un cinquantenne pesarese già arrestato precedentemente dalle forze dell'ordine per reati in materia di droga è stato fermato dagli agenti in sella al suo scooter nei pressi del parco milalfiore la perquisizione ha permesso di rinvenire sequestrare una scatoletta contenente 10 dosi di cocaina già pronta per la cessione per un quantitativo totale di circa 35 grammi questa mattina il giudice del tribunale di pesaro ha convalidato l'arresto del cinquantenne ed è partito questa mattina il progetto che vede impegnate le farmacie comunali e private della regione e della provincia di pesaro urbino per effettuare i test sierologici rapidi sentiamo i dettagli in questo primo servizio è attiva da questa mattina in tutta la regione e nella provincia di pesaro urbino la possibilità di effettuare i test sierologici rapidi nelle farmacie comunali e private del territorio una misura che si aggiunge al lavoro di tracciamento volto ad individuare gli anticorpi del virus tra la popolazione per effettuare il test è classicamente definito pungidito e dal costo massimo di 19 euro sarà necessaria la prenotazione l'esito dell'eventuale positività da confermare poi con un tampone molecolare o della negatività arriverà in circa 15 minuti abbiamo già aderito a pesaro all'incirca una decina di farmacie tra comunali e private e il test noi lo effettiamo in un locale esterno qualora non ci fosse la possibilità però si può effettuare anche in orario di chiusura della farmacia o comunque in un ambiente che non sia collegato direttamente con l'ingresso dei clienti per favorire una maggiore sicurezza il test è un autotest quindi è il cliente che deve diciamo fare un prelievo capillare di sangue dal proprio dito sotto la supervisione ovviamente del farmacista andiamo a ricercare gli anticorpi contro il coronavirus dobbiamo distinguere due anticorpi gli immunoglobuline m che sono i primi della risposta immunitaria del paziente che possono diciamo comparire all'incirca dopo cinque dal cinquinto sesto giorno di infezione fino al quindicesimo giorno di infezione quindi ci vanno ad indicare qualora fossero presenti che c'è uno stato infettivo attivo invece per quanto riguarda gli anticorpi immunoglobuline g sono quelli che intervengono in un secondo momento quindi alla fase finale dell'infezione possono rimanere anche dopo diciamo la fine della malattia e quindi ci possono andare anche indicare che l'infezione è già stata contratta in passato l'attendibilità è circa il 90 per cento ed è importante che finalmente anche nelle marche io ho portato due interrogazioni in consiglio regionale per spingere a firmare questo accordo tra regione farmacie comunali e farmacie private arriviamo purtroppo dopo altre regioni perché in emilia romagna sono quasi due mesi che è possibile fare questo test in farmacie in umbria in abruzzo già da diverse settimane secondo me è un passo fondamentale ci siamo arrivati un po in ritardo ma finalmente anche qua è possibile farlo nel frattempo si continua a discutere anche del grande screening di massa organizzato dalla regione marche e che a pesaro verrà attivato dal 18 dicembre fondamentale è l'individuazione delle sedi in cui si svolgeranno i test come sottolineato dal consigliere regionale andrea biancani io me lo sto ormai dicendo da tempo che è importante sicuramente utilizzare i punti drive perché vengono utilizzati sia a pesaro che a fano sia urbino solamente per tre giorni a settimana quindi quattro giorni questi punti sono completamente liberi occorrerà individuali in tempi rapidissimi siamo secondo me io ho invitato anche l'assessore un attimino a essere un pochino più veloce perché si parte fra dieci giorni ancora non sono state individuate quelle sedi dove le persone potranno andare il punto tra potrà essere uno ma l'altro esempio un'altra soluzione potrebbe essere nella zona della fiera quindi mi auguro che in tempi rapidi vengano definiti anche perché occorrerà capire come il modo con cui le persone potranno essere scelte perché non è che si possiamo trovare 10.000 persone o 2.000 persone che vanno un giorno a provare il test rapido quindi occorrerà far capire le modalità e attivarsi anche per individuare una modalità che consente di avere delle file che poi consentono alle persone di poter fare in tempi rapidi quello che è il tampone antigenico e ora la pagina degli aggiornamenti covid-19 per quanto riguarda il nostro territorio il servizio sanità della regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.400 tamponi 935 nel percorso nuove diagnosi e 465 nel percorso guariti i positivi sono 145 nel percorso nuove diagnosi e di questi 54 casi appartengono alla provincia di pesaro e rubino e ricorrerà domani il secondo anniversario dalla tragedia di corinaldo dove nella notte tra il 7 e l'8 dicembre del 2018 persero la vita cinque ragazzi e una giovane mamma all'uscita della discoteca lanterna azzurra anche quest'anno l'associazione cogeu ha pensato ad un'iniziativa in memoria delle vittime e per affrontare il tema del divertimento in sicurezza nei locali e nelle discoteche insieme al secondo anniversario della strage della lanterna azzurra ricorrerà domani la seconda edizione di lotto per il futuro la giornata dedicata al ricordo delle sei vittime che persero la vita nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 alla discoteca di corinaldo a due anni dalla tragedia l'associazione cogeu a causa del covi ha dovuto pensare ad iniziative diverse rispetto a quelle dello scorso anno dove con un concerto in piazza e 5.000 persone presenti si era voluto condividere il ricordo la speranza e la lotta per il diritto al divertimento in sicurezza da queste volontà l'associazione nata senigallia ha sviluppato nel tempo un codice etico volontario che comprende norme e regole di sicurezza per regolare il diritto al divertimento all'interno di locali e discoteche e proprio il manifesto sarà il protagonista di lotto per il futuro 2020 insieme alla pubblicazione del docufilm realizzato dall'associazione abbiamo scelto di ripartire da uno dei nostri delle nostre più grandi vittorie cioè la stesura del codice etico per il divertimento in sicurezza siamo ripartiti anche dalla richiesta che c'era pervenuta dai ragazzi di rendere questo codice etico uno strumento adatto ai giovani che parlasse la loro lingua e che fosse condivisibile sulle piattaforme social che tanto utilizzano i ragazzi è nato così il progetto della creazione del manifesto del divertimento in sicurezza grazie alla collaborazione di one day ma a quel punto ci siamo chiesti come raccontare tutto ciò come far conoscere tutto quello che stiamo facendo ed è lì che abbiamo scelto di realizzare un docufilm dal titolo parlare nel silenzio nascita di un manifesto e il cui regista è tommaso luzzi l'8 dicembre 2020 cosa faremo innanzitutto renderemo pubblico il docufilm sul canale youtube dell'associazione co.g.u e pubblicheremo sui canali social e sul sito co.g.it il manifesto del divertimento in sicurezza oltre a ciò ci saranno dei momenti di ricordo nei comuni che più sono stati colpiti dalla tragedia della lanterna azzurra quindi fano senegallia marotta mondolfo frontone saranno dei momenti assolutamente privati e la cittadinanza potrà partecipare alle dirette facebook che ogni singolo comune si preoccuperà di organizzare all'interno dei propri canali istituzionali io voglio il manifesto in tutti i locali noi lo vogliamo e se c'è la dg io entro se no no non potevamo chiamarli e dirgli a c'è il covid abbiamo un dovere nei confronti di questi ragazzi perché non si può pensare che i ragazzi rinuncino a frequentare le discoteche non è giusto pensare che i ragazzi rinuncino a vedere i concerti a musica al viocco si sono applicati uniti e hanno dedicato tanto tempo che normalmente i ragazzi non danno e tormentiamo abbastanza devono garantirci un divertimento in sicurezza la responsabilità anche di noi ragazzi di avere una responsabilità non solo verso noi stessi ma una responsabilità civile che possa coprire anche la vita degli altri e questo forse l'obiettivo e la sfida perché una tragedia simile non accada mai più mai più e proprio a proposito delle commemorazioni in programma per il ricordo della tragedia di Corinaldo domani alle 18.30 sarà possibile seguire in streaming sulla pagina facebook del comune di Fano il momento di raccoglimento dedicato alle vittime della tragedia tra cui Benedetta Vitali giovane di origini fanese e partirà nei prossimi giorni nelle Marche e in Umbria il numero unico di emergenza europeo 112 un nuovo servizio per rendere più semplici le chiamate d'emergenza e facilitare il lavoro e gli interventi delle forze dell'ordine o degli operatori sanitari parte nelle Marche e in Umbria il numero unico di emergenza europeo 112 sulla base della convenzione sottoscritta fra le due regioni sarà gestito da una centrale unica di risposta collocata ad Ancona nella provincia di Pesaro e Urbino il servizio entrerà in funzione dal 30 marzo 2021 mentre gli altri numeri di emergenza resteranno comunque attivi il nuovo numero sarà contattabile da rete fissa, reti mobili e anche attraverso l'app gratuita 112 where are you la centrale unica di risposta gestirà la richiesta di soccorso smistando la chiamata secondo la tipologia di intervento necessario ai carabinieri, alla polizia, ai vigili del fuoco oppure al soccorso sanitario questo numero praticamente riunisce sotto un unico numero appunto l'112 tutte le numerazioni di riferimento per gli interventi che sono richiesti dai cittadini riferiti a per esempio al soccorso sanitario il 118 il soccorso tecnico urgente dei vigili del fuoco l'intervento delle forze dell'ordine quindi di polizie e carabinieri il 113 e il 112 questo non significa che questi numeri finiscono di funzionare o non danno più risposte cosa cambia per il cittadino? Cambia che ogni volta che il cittadino chiama questa numerazione di emergenza che sia il 115, 113 o gli altri che abbiamo poco fa detto risponderà comunque la centrale unica di risposta 112 questo consente di fatto di localizzare in brevissimo tempo la persona che chiama quindi di avere un riferimento preciso dove la persona, il fatto è avvenuto e di inoltrare per l'intervento rapidamente le forze competenti il vantaggio per le forze schierate sul campo sia sanitarie che forze dell'ordine di vigili del fuoco è fondamentale perché in casi per esempio di chiamate multiple per lo stesso evento la centrale unica di risposta svolge una funzione importantissima di filtro delle chiamate consentendo di fatto agli operativi e quindi a tutti quelli che intervengono sul fatto di avere la possibilità di svincolarsi da chiamate inutili o multiple sullo stesso evento Sì, è un progetto che è stato realizzato dai nostri tecnici, dall'ingegnere Ferretti e penso che questo serva per sottolineare l'importanza di mettere in rete le esigenze dell'emergenza non solo sanitaria ma anche del soccorso pubblico dei vigili del fuoco, della sicurezza pubblica quindi polizia e carabinieri con una centrale qui ad Ancona che opera per entrambe le regioni ma che travalica anche addirittura le nostre due regioni arrivando persino in Toscana dove se ne presentasse l'esigenza E ora ci spostiamo a Vallefoglia dove sabato pomeriggio è stata aperta la nuova pista ciclo pedonale che collega le frazioni di Montecchio e Bottega Il servizio è di Andrea Sabatini La pista ciclo pedonale che collegherà Montecchio e Bottega è ufficialmente aperta Sono oltre 2 i chilometri di questa pista che vedete anche qua alle mie spalle che i cittadini di Vallefoglia e non solo potranno iniziare ad usufruire Uno strumento che permetterà anche una mobilità sostenibile una riduzione dal punto di vista anche della mobilità per quanto riguarda macchine anche per quanto riguarda i mezzi pubblici Non solo questo perché anche la pista che è stata appena creata permetterà in alcuni punti strategici della città per quanto riguarda anche le traffiche, per quanto riguarda le macchine di rallentare la velocità e quindi anche una maggiore sicurezza L'apertura di una pista ciclo pedonale che la gente aspettava non so da quanti anni alcuni dicono da 20-30 anni e che unisce i due escomuni col Bordolo e Sant'Angelo in Lizzola Montecchio-Bottega che unisce la Casa della Salute con il polo scolastico di Bottega il polo scolastico di Montecchio unirà il nuovo comune già in stati lavori e il nuovo teatro a Bottega consentirà soprattutto ai giovani alle ragazze, alle persone più anziane, più adulte di percorrere in sicurezza perché come vedete la pista è fortemente isolata si è stretta anche alla carreggiata quindi andranno anche più piano e quindi sono quasi due chilometri di pista per un investimento importante che ha creato lavoro hanno lavorato tante imprese circa 500 mila euro e vi aspettiamo sabato prossimo sempre in maniera sobria senza assembramenti con la mascherina, con le distanze per l'inaugurazione di Piazza Rossini che è stata rimessa nuova a Bottega e che quindi unisce di nuovo ancora di più perché l'unione fa la forza i ponti uniscono, non dividono e noi pensiamo che in un momento di Covid così drammatico più c'è coesione, più c'è comunità più si lavora insieme, meglio è Il progetto è stato curato dall'ingegnero Alessandro Gorini noi abbiamo fatto la regia diciamo sia del progetto che dei lavori come comune è un progetto che nasce con molteplici valenze e funzioni perché da una parte ha una funzione sociale perché come si diceva collega fisicamente anche in questo passaggio attraverso il ponte ex comuni di Sant'Angelo e di Colbordolo ma ha una valenza anche ambientale perché vuole incentivare la mobilità alternativa all'utilizzo dei veicoli quindi la bici, la mobilità pedonale che permetterà ovviamente di ridurre anche le emissioni di CO2 in atmosfera quindi i polveri sottili ha una valenza anche dal punto di vista della sicurezza del traffico perché attraverso il ristringimento fisico e visivo delle careggiate contiamo di avere un maggiore scorrimento più lineare dei mezzi ma a velocità molto più ridotte quindi un miglioramento anche delle condizioni per le utenze deboli della strada quindi pedoni, bambini, anziani e così via quindi è un progetto che assume moltiplici funzioni e che è stata una priorità per l'amministrazione comunale proprio per questo motivo qua ed è cominciata ieri mattina con l'ausilio dei volontari di quartiere la consegna dei primi saturimetri nelle case dei pesaresi il sindaco di Pesaro Matteo Ricci insieme all'assessore al benessere Mila della Dora e al presidente Aspes Luca Pieri ha sottolineato come dopo Pesaro primo comune a donare gli strumenti ai cittadini over 65 o con disabilità anche altri primi cittadini d'Italia si siano interessati per replicare il progetto la distribuzione proseguirà nei prossimi giorni grazie alla squadra dei 200 volontari di quartiere che insieme ai dispositivi sanitari le capiteranno alle oltre 1.500 famiglie che avevano ottenuto il bonus pesa a novembre ulteriori voucher dello stesso importo continua fino a domani la colletta alimentare 2020 che quest'anno a causa dell'emergenza Covid-19 viene sostenuta grazie all'acquisto di card da 2, 5 e 10 euro disponibili alle casse dei supermercati e che verranno convertite in prodotti alimentari per tante persone in difficoltà anche Confartigianato Imprese Ancona Pesaro Urbino ha partecipato all'iniziativa in questo fine settimana alcuni dipendenti e imprenditori artigiani presenti al centro commerciale Iperconad Rossini hanno ricordato l'importanza del progetto e dell'acquisto delle card venerdì scorso l'associazione Le Strade di Luca ha donato al comune di Pesaro l'undicesimo defibrillatore automatico che l'amministrazione ha deciso di destinare alla pista da pump track e skate soddisfazione espressa dal presidente dell'associazione Alan Palombi e dall'assessore Mila della Dora a 5 anni dall'inaugurazione del primo DAE donato alla città e l'associazione di volontariato Hauser Circolo d'Argento di Gabice Mare come nei precedenti anni ha consegnato al sindaco Domenico Pascuzzi e all'assessore ai servizi sociali Marila Girolomoni 40 buoni spese alimentari dal valore di 25 euro cada uno da donare per l'appunto alle famiglie in difficoltà in occasione delle festività natalizie e sarà presentato domani alle 17 in streaming sulle pagine Facebook e Youtube di Ventura Edizioni Il Lopecora sulla Luna un libro illustrato per bambini e scritto dalla pesarese Camilla Murgia il volume è stato illustrato da Sabrina Gennari ed è edito da Ventura Edizioni di Senigallia Il Lopecora è una storia di collaborazione empatia e rispetto valori importantissimi da ricordare ma specialmente in quest'anno come sottolinea l'autrice in vista dell'evento di lancio patrocinato da Pesaro Città Che Legge e Pesaro si candida a capitale della cultura italiana per l'anno 2024 e l'annuncio fatto dal vice sindaco e assessore alla cultura del comune di Pesaro Daniele Vimini durante il Future Day Pesaro Next Generation che avete potuto seguire proprio su Rossini TV vediamo il servizio Più di 3.000 utenti unici connessi da tutta Italia 17 grandi ospiti a intervenire e 5 tauri di lavoro sono i numeri che segnano il bilancio di Future Day Pesaro Next Generation l'evento trasmesso anche su Rossini TV e che ha coinvolto 350 tra professionisti, esperti, privati cittadini e amministratori locali in un dibattito nazionale incentrato su progetti, idee e visioni da mettere in campo nell'era di ripartenza post-Covid diversi quindi protagonisti dell'evento che ha avuto come temi cardine l'importanza dei futuri investimenti economici e la svolta green e digitale su cui impostare la ripresa locale e anche nazionale il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci ha sottolineato come le risorse che arriveranno dall'Europa andranno a rinforzare sanità, mobilità edilizia e infrastrutture della città ma anche dei borghi e dell'entroterra protagonista anche il settore della cultura grazie all'annuncio fatto dal vice sindaco Daniele Vimini il quale ha dichiarato la candidatura di Pesaro a Capitale Italiana della Cultura per l'anno 2024 Crediamo che sia una sfida non solo alla portata di Pesaro ma che sia siccome già quella sfida così come il recovery plan diciamo seguono quella che è l'agenda dell'agenda delle azioni unite 2030 quella che è l'agenda di una progettazione che tiene insieme produzione, cultura nuovo modo di abitare nuovo modo di produrre nuovo modo di consumare nuovo modo di trasformare l'ambiente in anche opportunità di sviluppo quella sfida si porta dietro ovviamente un orizzonte strategico che probabilmente nessuno di noi da amministratore vedrà direttamente realizzato ma che è non solo il lavoro il futuro dei nostri figli ma anche diciamo la cifra su cui andare a infilare ogni investimento ogni ragionamento ogni strategia da qui i prossimi anni e si chiama Accendiamo il Natale il pacchetto di iniziative realizzato da Villa Cè per celebrare il Natale a Villa Ceccolini nel rispetto delle norme anti-covid si comincia domani martedì 8 dicembre con l'accensione dell'albero natalizio di quartiere come ci spiega in questa intervista l'organizzatrice dell'evento Elena Parato noi dell'associazione Villa Cè abbiamo creato un'atmosfera natalizia nel paesino di Villa Ceccolini nasce dai soci l'organizzazione di questo Natale un po' particolare dovuto un po' al covid la prima iniziativa che vogliamo realizzare è l'accensione dell'albero il giorno 8 dicembre alle ore 18 ovviamente sarà tutto in versione virtuale quindi vedete l'accensione dell'albero sulla nostra pagina facebook sempre legato all'accensione dell'albero ci sarà anche il nostro parco davanti alla scuola a Papa Giovanni XXIII dove partecipano anche i nostri figli sarà addobbato con luci particolari e diventerà il nostro Christmas Park i bambini della scuola hanno realizzato degli addobbi che poi andremo ad appendere in modo tale che renderemo più festoso anche il nostro parco grazie al loro aiuto un'altra delle nostre iniziative è legata a Babbo Natale allora i bambini che dal 10 al 15 di dicembre si iscriveranno gratuitamente sul numero dedicato di Whatsapp riceveranno una letterina che verrà consegnata il giorno 20 tramite Babbo Natale ovviamente nel rispetto delle normative covid che girerà per le strade di Villa Ceccolini con la sua app slitta ovviamente addobbata sarà una sorpresa un po' per tutti il giorno 21 alle ore 21 sulla nostra pagina facebook ci sarà l'estrazione dei giocattoli che sono stati offerti dai nostri negozianti del paese di Villa Ceccolini per tutti i bambini un'altra delle nostre iniziative in collaborazione con il quartiere 4 è decoriamoci le case decorate in maniera originale sia internamente che esternamente verranno premiate inviateci le vostre foto così la nostra giuria e i vostri like daranno origine alla migliore casa che verrà premiata e ora come ogni lunedì apriamo la pagina sportiva del nostro telegiornale con tutti i risultati dei match di questo fine settimana vittorie e festeggiamenti rimandati per tutte le squadre del territorio con il derby tra Vis e Fano terminato in pareggio 0 a 0 e la sconfitta a Treviso della Carpegna Prosciutto Basket è terminato senza reti e con un secco 0 a 0 il 101esimo derby allo Stadio Benelli tra Vis Pesaro e Alma Juventus Fano un punto a testa per ogni squadra ma nessuna rete in porta per il match tra le due realtà locali ad eccezione del gol segnato all'84esimo da Carpani del Fano che però è stato annullato delusione quindi per entrambe le società con mister Bedetti che sostituiva nella panchina vissina lo squalificato di Donato al termine dell'incontro un gruppo di tifosi biancorossi ha dato vita ad una contestazione fuori dal Benelli per manifestare contro il risultato portato a casa dalla Vis sicuramente questo non è l'atteggiamento con cui affrontare un derby stasera quando siamo a casa tutti quanti tranquilli e sereni ci dobbiamo fare un bel esame di coscienza tutti quanti dallo staff tecnico ai giocatori perché oggi ho visto in campo una Vis senza sangue quindi non riesco a definire se è un punto guadagnato o un punto perso l'unica cosa che mi porta a casa è che da quando siamo arrivati non abbiamo preso gol oggi però è magra la partita ha detto che se c'era una squadra che meritava di vincere quella era il Fano dispiace dispiace tanto purtroppo è un periodo che facciamo delle cose che non esistono purtroppo e ci capitano dobbiamo lavorare e basta penso che il Fano ha tenuto il campo per 90 minuti è attaccato li abbiamo messi sempre lì e poi dispiace anche per il gol finale nessun festeggiamento anche in casa Carpegna Prosciutto Basket che pur non conquistando i due punti nella trasferta di Treviso resta quinta in classifica a quota 10 nella decima giornata di Serie A la vittoria è andata ai padroni di casa della De Longhi per 91 a 81 vorrei fare complimenti a Treviso per una vittoria strameritata onestamente noi siamo arrivati qua come ho detto con qualcuno molto indietro come Delfino non si è allenato quasi 10 giorni bene come Massenat che si è scavigliato e si è visto che è molto indietro e giocatori sicuro importanti per noi se succede con Ariel come è successo a primo tempo che ha sbagliato tutte le sue scelte o con Zanetti che è stato tutte le sue scelte difficili da aspettare vincere prima di questa partita siamo stati miglior seconda squadra in nostro campionato dal punto di vista difesa abbiamo subito 47 punti in primo tempo più di metà più di metà dopo contropiede e ribalzo in attacco e in nostra preparazione obiettivo primo è stato giocare con loro metà campo e controllare il ribalzo difensivo purtroppo non siamo riusciti mi dispiace ma ho visto ho visto la squadra distratta non concentrata rispetto alle ultime partite può essere che tutto ambiente dopo quattro vittorie in fila dopo anni e anni sia addormentato ma è mia colpa e questo era e questo era il nostro ultimo servizio vi ricordo ora la prima serata di Rossini TV perché questa sera alle 21 e 15 potrete seguire lo speciale dedicato alle premiazioni dell'Ideo Calendario organizzato da Ideostampa questa sera alle 21 e 15 puntuale invece l'appuntamento con l'informazione domani mattina alle 7 e 20 con la nostra rassegna stampa in diretta Buongiorno Rossini Grazie per averci seguito in questa edizione del nostro telegiornale e vi auguriamo un buon proseguimento di serata su Rossini TV